Allora, perché questa sera l'abbiamo intitolato Due Fette d'intelligenza artificiale? Perché sono delle considerazioni che ad alcuni possono interessare, non evolutissime, chi di voi è informatico o ha già approfondito il tema dell'intelligenza artificiale probabilmente avrà già sentito molte delle cose che vi racconto, ma ve le racconto la mia maniera un po' rimontate sulla base dell'esperienza. Intanto non so se avete visto, la locandina è quella di, la figura ha un saluniere, il saluniere è la mia faccia perché con l'intelligenza artificiale si riesce a sostituire corpi, dettagli delle fotografie, quello che una volta bisognava fare con forbici e colla per fare i fotomontaggi. Quindi è un programmino semplicissimo, non occorre nessuna conoscenza, ma permette delle cose che sono abbastanza divertenti, prodigiose. L'intelligenza artificiale fa anche abbastanza pasticci. Questa è una segnalazione di un collega, un collega serissimo, psicologo, che però è anche appassionato di sculture con i materiali di riciclo. L'altro giorno gli è stato bloccato un post con l'accusa di materiale sconveniente perché c'era una Barbie. In effetti la Barbie era abbastanza nuda, però è difficile che possa suscitare scandalo. Il sistema automatizzato di Facebook, di Meta, ha segnalato questa come un'infrazione al morale. Allora, questo tema dell'intelligenza artificiale e dei nuovi modi di limitazione alla libertà è un tema particolarmente interessante. Oggi io vi parlerò delle potenzialità, però sicuramente ci sono degli aspetti per cui volerla usare o non volerla usare sicuramente si pone il problema di conoscere quali sono gli aspetti ancora incerti e insidiosi di qualche cosa che è scoppiato molto rapidamente negli ultimi tempi. Allora, sì, grazie. C'è Guido che mi aiuta su dei dettagli tecnici, ma credo che mi sentiate. Allora, io ho preparato le slide, ma naturalmente, come dire, su alcune cose passo molto veloce. L'immaginario dell'intelligenza artificiale è qualcosa che ci ha accompagnato da moltissimo tempo. Ricordiamo le macchine superintelligenti che si guidavano da sole. Oggi ci siamo quasi vicini a queste realizzazioni. La questione dell'intelligenza artificiale è arrivata a cavallo, però, fra l'anno scorso e quest'anno, anche se gli informatici ce ne parlavano da molti anni, come un'onda improvvisa e rivoluzionaria. In particolare, i primi segni di atterraggio in Italia sono stati la proibizione del garante attorno a ChatGPT e ChatGPT è diventato quasi sinonimo di intelligenza artificiale. Quindi, diciamo, le prime reazioni sono state delle reazioni preoccupate attorno alla tematica della privacy, facilissimamente bypassabile, perché usando una VPN e facendo finta di collegarsi all'estero, anche in presenza di proibizione del garante era possibile collegarsi. Ho iniziato a incuriosirmi di intelligenza artificiale poche settimane prima di essere ricoverato in ospedale. Qui siamo sulla spiaggia, è una foto che mi è molto cara, perché siamo sulla spiaggia in Liguria e con Cesare Albasi siamo lì a guardare ChatGPT che fa un prodigio. Gli abbiamo detto, Cesare è uno psicanalista, professore a Torino, gli abbiamo detto scrivici il programma di un simposio di psicanalisi relazionale, che è un tema, non è come fare la cucina del risotto. E questo mostro, perché è qualcosa di mostruoso, ci ha compilato un programma con tanto di pausa a caffè su tematiche che ha scelto lui. E la cosa sorprendente è che erano tutte tematiche pertinenti su questo campo di cui io non avrei saputo neanche in ore di lavoro generare delle idee. E' come avere una specie di segretario sapiente o di collega che ha dell'inventiva. Vabbè, la faccio breve. Il tema è rivoluzionario, ci è sembrato, e moltissime reazioni sul tema dell'intelligenza artificiale sono state reazioni di paura, di chiusura, di timore. Questo non è nuovissimo, perché nella storia delle innovazioni molte cose hanno suscitato sconcerto. Pensate alla stampa, la dinamita è facile che susciti sconcerto, anche se il premio Nobel deriva da quello. Il cinema, corruttore di anime, non parliamo del voto alle donne, è questione cruciale, ma il telaio meccanico e moltissime altre cose. Ogni volta che c'è un'innovazione tecnica c'è anche un'innovazione sociale e una risposta e azione e reazione. La televisione era pericolosissima, oggi la televisione è un oggetto museale e siamo qui a chiederci come interferiscono sulle menti di smartphone e intelligenza artificiale. Va bene. Io in questi mesi di curiosità, non posso dire di studio, vero, su questa tematica, mi sono messo anche un po' a rileggere la storia dell'informatica, dell'evoluzione delle macchine, che servono per svolgere delle funzioni e ci sono dei personaggi molto curiosi. Qui c'è Guido a fianco a me che ha anche dei racconti personali. Ad esempio, uno dei protagonisti della moderna intelligenza artificiale e del moderno applicazione dell'informatica era stato non un informatico, ma un gesuita, che era padre Busa. Sì, mio papà lavorava all'IBM e attraverso un paio di amicizie da sempre conosce padre Busa, il suo miglior amico, che aveva avuto un'illuminazione religiosa in tarda età, in qualche modo era riuscito ad arrivare ad avere padre Busa come guida spirituale. Per cui, ed era un personaggio che mi è stato raccontato veramente notevole. Mio papà, che non era perché era laico, era un comunista, andava ai ritiri spirituali con padre Busa perché era un'esperienza notevole. E padre Busa negli anni 50 praticamente aveva deciso che per capire davvero il contenuto del pensiero di San Tommaso, in un uso di un latino, che non era il problema in latino, ma il problema è di capire, quando lui dice quercia, che cosa è in mente. In mente è una cosa robusta, in mente è una cosa... Allora, per fare una cosa fatta bene, bisognava avere qualcosa di più di una... insomma, di tante penna. E allora dicono le leggende che si è andato da... Mi pare si chiamasse Watson, il responsabile principale dell'IBM in America, e ha detto, ho bisogno di un computer, mi faccia questo e quest'altro. La verità è che l'IBM ha sempre regalato a padre Busa una quantità di tempo macchina, quando il tempo macchina era costosissimo, per mettere appunto su Inder Stomistitus, che poi negli anni 90 ha presentato al Papa, invitato a essere di persone di IBM, e niente, quindi... Quando era anziano ho avuto il piacere di accompagnare la casa sua, a Cavagardarato, ho scoperto in seguito, che è considerato uno scienziato veramente... appunto, che la linguistica computazionale è stata ripescata da questi nuovi sviluppi dell'intelligenza artificiale, che ha cambiato un po' di rezione negli ultimi anni, e appunto la linguistica è diventata un aspetto fondamentale. Sì, questo è un punto che ho trovato molto illuminante. Io pensavo che l'informatica fosse, forse per delle memorie un po' traumatiche, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, io ho avuto il Commodore 64 e la programmazione in basic per me era qualcosa di inarrivabile. Oggi forse farebbe ridere, ma all'epoca si riusciva a giocare a Pong con delle procedure astruse. Insomma, era qualche cosa per iniziati. Addirittura c'era chi usava questo computer per collegare l'impianto di innaffiamento delle piante. Insomma, bisognava essere informatici, informaticissimi. E invece, a un certo punto, gli intrecci fra informatica e metodo umanistico iniziano a stringersi in un modo sorprendente. Padre Busa è un esempio straordinario di un umanista e un teologo che chiede uno strumento alla tecnica. Aveva tre lauree. Non escludo che una delle tre lauree fosse in qualcosa di scientifico, tutto sommato. Però di sicuro non di informato. Che forse non stava ancora esistendo. No, non esisterà di sicuro. Come la disciplina a sé stante. Ecco, il punto è che nel giro di anni, dalle enormi pile di schede perforate, quei tempi macchina con costi apocalittici, a un certo punto ci siamo trovati via via negli anni, se vi ricordate i telefonini, degli strumenti in tasca e degli strumenti che si governano sempre di più attraverso parole e non linguaggi di programmazione. Quindi le competenze, e questa è una curiosità secondo me straordinaria, le competenze sono le competenze che molti di noi, questa sera ci sono avvocati, psicologi, medici, persone abituate a usare la parola in modo raffinato, beh, queste competenze non sono competenze inutili, ma sono le competenze di fondo. Io vi segnalo un paio di libri per chi volesse approfondire. Io sono sempre molto prudente nei consigli di lettura, però queste cose, questi due testi, li ho trovati veramente importanti. Uno è De Bagis e Pugliafito, con questo titolo, in principio, che non rende tanto giustizia, perché è un testo con dei capitoli umanistici, spiega perché ci deve interessare, perché ci siamo dentro anche se non siamo degli informatici, e la scorciatoia invece spiega una cosa interessantissima, che è, fra le tante cose che dice questo libro, è che l'intelligenza artificiale si sviluppa quando gli informatici smettono di voler ricostruire un modello di linguaggio con delle regole. Quindi c'era un obiettivo, una mitologia che era costruiamo un sistema di regole perfette e quindi si genera il modo, si genera il linguaggio più simile a quello naturale. Invece a un certo punto, negli ultimi decenni, ci sono alcuni che iniziano, qui è una massima di uno dei padri dell'intelligenza artificiale basata sui modelli di linguaggio, dice ogni volta che licenzo un linguista, il nostro sistema migliora. Cioè sostanzialmente, ogni volta che smettiamo di voler stabilire delle regole, ma studiamo, questo è un passaggio che anche io che non ho dimestichezza, a un certo punto ho capito come un passaggio fondamentale, è quando si è iniziato a trovare connessioni statistiche tra le parole e le dimensioni semantiche, a quel punto è stato possibile prevedere le parole che seguono il formulare del frasi di senso compiuto. Questa è la comparsa del Large Language Model, di cui avete sentito parlare, perché le intelligenze artificiali attuali, quelle che sono dilagate sul mercato, cioè GPT, piuttosto che BARD, piuttosto che le altre, le vedremo dopo brevemente, hanno questa caratteristica. Cioè sono basate su modelli matematici che calcolano la probabilità delle sequenze di parole e predicono statisticamente le parole successive. Quindi non capiscono esattamente quello che dicono, ma lo dicono benissimo. E hanno la capacità di essere addestrate, quindi con dei dataset, con dei magazzini di esempi di linguaggio di dimensioni estremamente ampie, quindi possono basarsi su raccolte. E questo è un altro punto critico, che non sono tutte dichiarate. Cioè non è chiarissimo su quali set di dati sono stati addestrati questi sistemi. Dopo lo vediamo. proprio perché c'è una certa opacità dal punto di vista dei modi di addestrare questi sistemi. Ci sono anche degli addestratori umani che rivedono, proprio perché questi sistemi hanno una capacità di auto-addestrarsi e di raffinare le risposte, c'è poi anche una dimensione supervisionata, dove quindi c'è un controllo umano. Questo ricorda degli scenari un po' da film. Non so se voi vi ricordate i giorni al Condor, dove c'era questa sede segreta della CIA che studiava e scannerizzava documentazione cercando messaggi nelle produzioni letterarie, nei giornali, nei quotidiani. C'è un macro progetto che ha portato di fatto alla scannerizzazione di tutto il patrimonio librario mondiale, che è quello di Google Books, dove non è dichiarato che questo sia stato utilizzato per la programmazione di questi grandi sistemi linguistici, ma è evidente che gran parte di questo patrimonio di testi di tutte le lingue del mondo evidentemente ha servito a confluire in questi sistemi appunto di intelligenza artificiale. I dettagli sono conservati in modo ancora riservato. Ci sono studi che dicono che però l'origine è legata a testi, anche protetti da copyright, diciamo un po' disinvoltamente utilizzati da queste compagni. Bisogna dire che gli americani non sono nuovissimi a queste opere gigantesche di schedatura e conoscenza. Una, per chi è appassionato, qualcuno di voi mi ha parlato di recente, di ricerche genealogiche. Voi sapete che i mormoni hanno un'idea bizzarra che è di battezzare anche i morti perché risolgono al giorno del giudizio e quindi vanno schedando tutte le biografie delle persone che sono vissute nell'umanità e di cui restano tracce. Hanno questi enormi server e schedari a Salt Lake City, dei bunker antiatomici e schedano qualsiasi informazione biografica ci sia. Queste sono delle prospettive vertiginose e quindi queste intelligenze artificiali che si basano su dei repertori così macroscopici e ci fanno anche avere delle reazioni di fidenza, vediamo. Però ci sono anche delle questioni che sono estremamente utili. Di fatto abbiamo detto questi sistemi di intelligenza artificiale, se padre Busa aveva bisogno di enormi computer, di schede perforate, tonnellate di carta su cui venivano memorizzati i dati, adesso in un cellulare siamo in grado di interrogare questi sistemi che sono in grado di darci un aiuto sulla pianificazione della giornata, di fare traduzioni, di fare delle cose mirabolanti. E questo ci ricorda una frase famosa di questo Clark che diceva che ogni tecnologia che sia abbastanza avanzata è indistinguibile dalla magia, cioè sostanzialmente la tecnologia arriva a un punto in cui suscita stupore. L'intelligenza artificiale simula le funzioni dell'intelligenza umana abbiamo detto attraverso l'uso di sistemi prevalentemente di tipo linguistico. Io volo sulla parte tecnica perché può non essere l'interesse di tutti. La stessa definizione dell'intelligenza artificiale è curiosa proprio perché invenzione moderna è ad esempio una delle questioni classiche del test di Turing che dovrebbe identificare che cos'è una macchina intelligente. Una macchina è intelligente quando è indistinguibile in una situazione in cui lo sperimentatore non ha delle informazioni è indistinguibile da una persona. E questo è quello che oggi viene usato. ci sono vari tipi di definizione ci interessano tantissime ma c'è chi è arrivato a ipotizzare la capacità di intelligenze globalmente tutte superiori alle funzioni dell'intelligenza umana. Oggi questo è vero per funzioni molto determinate ad esempio i grandi giocatori di scacchi o giocatori di go sono stati superati dalle intelligenze artificiali su ambiti però estremamente applicativi. questo è uno dei campi che suscita preoccupazione suscita moltissimi dubbi però appunto noi possiamo decidere di tenerci completamente fuori oppure affacciarci a questo ambito dove moltissime applicazioni di intelligenza artificiale sono già in uso anche senza che ne siamo esattamente consapevoli. Pensate quando dovete fare un acquisto su Amazon ad esempio vengono consigliati i prodotti che possono interessarci sono il risultato di intelligenza artificiale o quando Netflix molto più placidamente quando stiamo per vedere un film ci suggerisce qualcosa che guarda a caso un po' simile ai nostri gusti e questo è frutto di profilazioni e frutto di elaborazioni che sono dovute a sistemi di intelligenza artificiale. Sembra un oracolo qui sono io con Sara Frasca che facevamo un po' gli stupidini quando ancora i tempi in cui usavo l'oracolo di Apollo e adesso ci siamo evoluti in una versione con l'intelligenza artificiale sempre si tratta di interrogare qualcuno. Allora questa disciplina di interrogare l'oracolo qui veniamo a una piccola parte pratica per chi non si è ancora avventurato diciamo con tempo per approfondire l'interrogazione dell'oracolo consiste nel formulare dei prompt cioè sostanzialmente formulare delle frasi interrogative e questo per chiunque abbia una formazione umanistica è diciamo una cosa conosciutissima proprio perché non richiede l'impiego di un linguaggio tecnico ma tanto più siamo capaci di formulare domande dettagliate e a loro modo evocative tanto più il sistema ci risponderà in un modo preciso quindi mi viene in mente che medici psicologi sacerdoti investigatori tutte persone che sono rappresentate questa sera vedo nel pubblico e sono capaci di formulare dei prompt ci sono delle regole molto molto semplici delle regole molto semplici per i prompt che sono sostanzialmente fare domande aperte che stimolano il sistema di intelligenza artificiale a dare delle risposte ampie e descrittive oppure possiamo chiedere dei dati precisi oppure possiamo chiedere con delle interrogazioni che prevedono una risposta sì o no questi sono dei sistemi diciamo molto molto di base di interrogare il nostro oracolo ma questi sistemi si prestano anche a essere interrogati in modi diversi ad esempio scrivimi qualche cosa scrivimi un tema ad esempio su un certo soggetto le applicazioni sono infinite dalle quelle pessime farsi scrivere il tema della macchina raccontava un'amica recentemente che insegna francese superiori che con CiaGPT ha visto una dimostrazione ha visto un video in cui si può fare un tema in francese ma giusto nel senso prima si fa troppo perfetto poi si comincia a dire introduci un paio di errori di ortografia introduci degli errori che fa tipicamente uno studente italiano di ortografia questo mette veramente in dubbio il fatto di dare un compito a casa che sia significativo perché a questo punto diventa un allenamento di come usare CiaGPT praticamente per i compiti a casa sì questo tema naturalmente di poter avere delle risposte anche di qualità piuttosto buone ricordiamo che ad esempio sono stati sottoposti sperimentalmente all'esame di abilitazione alla professione medica negli Stati Uniti di sistema di CiaGPT passa questi test tema di cui non abbiamo mai avuto grande fiducia perché i test sono un modo di valutazione ovviamente molto relativo ma tant'è rappresentano lo standard e questi sistemi di intelligenza artificiale sono in grado di superarli ad esempio i quesiti di fine corso oggi se c'è un tema ad esempio una FAD che presenta un elenco di domande dando l'impasto a resistenza di intelligenza artificiale questi generalmente rispondono bene non è un invito a farlo credo che ci siano dei problemucci anche etici o legali però è un sistema che funziona benissimo poi vediamo perché alcuni sistemi hanno una possibilità di aggiornamento sulle ultime cose della rete altri sono congelati circa al 2021 epoca in cui poi si è iniziata l'immissione sul mercato di questi sistemi è possibile essendo sistemi linguistici è persino possibile dare una taratura sul tipo di risposta che si vuole ottenere ad esempio con uno stile formale oppure informale quindi a seconda che dobbiamo presentare un testo per un certo tipo di scopo non so un post di un social piuttosto che una relazione professionale è possibile suggerire chiedere alla macchina di utilizzare un certo tipo di tonalità le parole non sono però le uniche forme di prodotto che l'intelligenza artificiale produce perché ad esempio oltre che testi hanno un'abilità notevole questo non è proprio il mio campo ma ad esempio di produrre codice di programmazione pare che siano straordinariamente abili in questo ma anche l'abbiamo sentito spesso di produrre immagini anche di produrre video anche di produrre audio con dei risultati che sono senz'altro di enorme interesse e che non richiedono questa è la particolarità non richiedono la capacità di usare sistemi di programmazione ma semplicemente con delle interrogazioni testuali cioè si dice al sistema fammi una fotografia producimi una fotografia con queste caratteristiche mentre prima quando bisognava usare dei sistemi di software di elaborazione grafica bisognava avere delle competenze ed erano dei sistemi molto complessi e raffinati mi hai fatto venire a mente una cosa che ho letto recentemente che non so se c'è qualche appassionato di beatles c'è stata una specie di serie tv documentare molto bella che si chiama Get Back dove si vedono dei filmati dei beatles restaurati che hanno una qualità pazzesca ne ho visto un po' ed ho rimasto impressionato dalla qualità poi ho letto che sono stati fatti in un modo che però è un po' particolare perché non è l'audio originale o il video originale ma soprattutto l'audio mi fa impressione ripulito con dei sistemi digitali è proprio che con dei sistemi di intelligenza artificiale hanno ricostruito usando delle incisioni invece di buona qualità delle voci di John Lennon Paul McCartney come l'avrebbero detto le cose che stavano dicendo e col tono che stavano dicendo in quel momento quindi è in realtà una ricostruzione fatta in modo sintetico c'è una bella differenza però l'effetto è pazzetto di queste applicazioni che poi possono essere un po' fuori dalla portata del comune curioso amatore però sicuramente aprono degli orizzonti molto interessanti dal punto di vista della produzione cinematografica siamo già abituati a effetti speciali costruiti in un certo modo addirittura alla ricreazione di aspetti del passato di personaggi delle possibilità che sono tutte da approfondire vi parlerei di qualche aspetto molto pratico avevo suggerito un po' nelle mail con cui si preparava questa serata di provare a scaricare delle app o di iscriversi a questi sistemi faccio una ricapitolazione un po' generale poi manderò a chi è interessato qualche appunto di quello che ci siamo detti oltre che lasciare il video perché di sistemi ce ne sono moltissimi ormai però per chi vuole cercare delle applicazioni concrete in realtà di sistemi ne servono molto pochi di cui però bisogna anche conoscere delle caratteristiche che sono peculiari adesso le vediamo un po' rapidamente i sistemi sono arrivati tutti nel giro di pochissimi mesi diciamo dal novembre 2022 le prime avvisaglie poi nel marzo 2023 sono arrivati sul mercato la maggior parte delle delle diciamo di questi sistemi intelligenza artificiale tra cui Bard di Google gli esperimenti che ho fatto personalmente appunto in questi mesi diciamo di semilibertà mi hanno portato a provare come sistemi fondamentalmente questi che vi illustro qui nella slide allora uno è Bard che è stato il diciamo sistema intelligenza artificiale costruito da Google arrivato tardivamente in Italia con dei grossi problemi di malfunzionamento nei primi tempi c'era stato un flop per cui una presentazione pubblica aveva dato risposte sbagliate non so che cosa hanno fatto ai tecnici che ci hanno lavorato l'altro sistema è ChatGPT che in varie versioni poi è approdato in Italia con questo blocco del garante e poi Bing che è del browser di Edge di Microsoft molto interessante ma di cui si è parlato probabilmente un po' meno e poi ci sono gli altri sistemi uno è Aria che è inglobato nel browser di Opera e un altro ancora interessantissimo con alterne accessibilità per cui per un lungo periodo era disponibile poi ci voleva un telefono statunitense per potersi collegare è Antropic Cloud che è fatto da due italo-americani in una start-up che ha delle caratteristiche che poi vediamo sono interessantissime allora se voi avete voglia di curiosare l'intelligenza artificiale molti di voi l'avranno già fatto e quello che io vi suggerisco è di o segnarvi tutti gli indirizzi o di scaricare le app quando ci sono dedicate loggarvi perché bisogna dare di solito l'account di Google oppure loggarsi con una password in modo che il sistema conservi in memoria e sia anche in grado di tarare le esplorazioni successive sulla base dell'esplorazione che avete fatto sono cose che si fanno in pochi minuti un po' noiose quindi occorre che uno abbia proprio voglia di addentrarsi in questi sistemi ma una volta fatto poi risulta è molto più semplice basta un click per collegarsi e Bing ad esempio ha la caratteristica di rispondere in modo aggiornato perché pesca i dati sulla rete direttamente ma è basato anche Bing sul chat GPT anche quello è basato sul chat GPT tu hai trovato anche qualche sistema a pagamento giusto? sì il sistema a pagamento poi ne dico qualche cenno dopo perché sicuramente il sistema a pagamento che è più interessante ad oggi è chat GPT plus e che consente delle funzioni di cui dopo diciamo due cose che sono molto interessanti secondo me per molti mestieri che fanno gli amici che sono collegati perché perché consentono non soltanto di lavorare sui testi ma di poter fare delle elaborazioni dopo vi faccio vedere qualche cosa Bard ha un accesso alle fonti piuttosto limitato anche se anche lui dovrebbe navigare su internet ecco qui c'è il problema alle fonti quindi Bing è l'unico che cita dove ha preso le notizie perché il problema grossissimo di questi sistemi di intelligenza artificiale questo è un dato molto importante è che quando non sanno qualcosa come un ragazzino un po' appunto un po' ingenuo quando non sa qualcosa se lo inventa questo è il motivo di disastri ad esempio in ambito legale sapete che negli Stati Uniti i precedenti fanno giurisprudenza e un avvocato negli Stati Uniti affascinato da questi sistemi di intelligenza artificiale ha stilato un ricorso ricorso perfetto che citava degli precedenti dei casi estremamente suggestivi convincenti peccato che al momento della verifica questi si sono mostrati totalmente inventati questo fenomeno si chiama allucinazione dell'intelligenza artificiale ed è uno dei problemi principali per cui l'intelligenza artificiale non è assolutamente una soluzione di cui fidarsi ma è uno strumento che invece bisogna utilizzare con molta attenzione soprattutto su tematiche rilevanti questo è il primo problema l'attendibilità quindi solo pochi sistemi citano la fonte chat GPT 3 che è la versione gratuita è aggiornato il 2021 per cui se fate le ricerche trovate solo vecchi set di informazioni quindi chi ha vinto il campionato quest'anno che cosa è successo ieri in Ucraina tutte cose che chat GPT ignora invece chat GPT 4 ha la possibilità di navigare anche in rete con dei sistemi che si chiamano plug-in il sistema a pagamento e ha delle possibilità decisamente notevole Claude fa fatica con le notizie recenti cioè si inventa le cose straordinarie però è un sistema linguistico con delle capacità molto buone vediamo qua io ho fatto la solita prova che si fa l'unica cosa di cui so qualcosa è la mia biografia e se chiedo chi è Carlo Clerici Bing risponde bene aggiornato Bard risponde che non ha abbastanza informazioni è curioso perché potrebbe navigare su internet ma ma è non si capisce se pigro o o non si attiva aria da una risposta abbastanza abbastanza attendibile chat GPT 3 risponde che non è aggiornato chat GPT 4 è è aggiornato e cita con questi plug-in quindi con questi sistemi che consentono navigazione in rete anche la citazione alle fonti cioè spiega dove ha preso queste notizie Antropic Cloud mi definisce come un conduttore televisivo nato nel 38 decisamente a 84 anni decisamente qualche problemuccio di è una quella che viene definita un'allucinazione quindi di questo sistema non mi fiderei Portobello ti sta confondendo con Enzo Toto allora sempre più difficile chiedo al sistema dell'intelligenza artificiale immaginate la monotonia di essere a casa alle prese solo con cose sanitarie fantastico l'organizzazione di un seminario sul lockpicking conoscete la mia passione per le serrature e i grimaldelli e i sistemi sono in grado di stendere sulla base di conoscenze che pescano evidentemente da un repertorio molto ampio perché sapere che cos'è il lockpicking non è proprio banalissimo e stilano dei programmi quotidiani perfetti con tanto di pausa caffè pausa pranzo conclusioni tematiche pertinenti norme legali e altri aspetti semplicemente chiedendo con un comando di due righe quindi c'è una capacità di organizzare testi qui entropic load si rianima e dà delle risposte mentre su di me diceva delle cose astruse qua invece dice delle cose scrive delle cose coerenti quindi sostanzialmente i sistemi sono quasi tutti gratuiti nella versione base chat GPT ha un costo per avere la versione class plus che consente di navigare su internet di fare tutta una serie di cose mirabolanti costa circa 20 dollari al mese io mi sono iscritto mi sono abbonato in realtà si può disdire anche dopo il primo mese è una funzione molto curiosa vi faccio vedere fra poco che cos'altro può fare l'altro sistema molto interessante è Cloud che fa delle cose che vi faccio vedere fra poco poi ne ho sperimentate anche delle altre ma adesso non scendiamo nei dettagli tranne di Po Po è un sistema multipiattaforma per cui può navigare pagando l'acquisto di token in tutti i sistemi di intelligenza artificiale compreso chat GPT4 ed è un sistema multipiattaforma che risponde che risponde male sulle notizie biografiche bene sulla stesura di un ipotetico corso di formazione addirittura fa due pagine di test vi risparmio gli altri sistemi collaterali ma abbiamo detto sostanzialmente che se prendete confidenza con Bard Bing e chat GPT e se volete Aria sostanzialmente coprite tutte le possibilità che i sistemi di intelligenza artificiale diciamo oggi sono in grado di dare ad un utente che ha delle esigenze un po' generaliste la versione a pagamento di chat GPT che cosa ha ha la possibilità di aggiungere dei plug-in che sono dei programmini che consentono di fare delle funzioni funzioni che vanno da quelle un po' frivole ad esempio giocare a scacchi gioca a scacchi benissimo ovviamente mi ha battuto dieci volte su dieci fine della mia partita delle mie partite a scacchi ma anche e queste sono funzioni molto interessanti di ricavare dati da documenti ad esempio in pdf adesso non non affronto quando fai riconosciuto un pdf perché questa è una cosa che mi sarebbe piaciuto provare ma alla fine non ero molto riuscito gli dai impasto il pdf ti fa lui un riconoscimento del test allora no deve essere un pdf navigabile sostanzialmente perché i pdf fotografati per ora richiedono un OCR e io non ho trovato ancora il segno di navigarlo in compenso digeriscono anche pdf molto lunghi e sono in grado di fare delle sintesi molto attendibili o di trovare all'interno dei passaggi io per deformazione storica ho preso il dossier della commissione Mitrokin e ho chiesto qual era il ruolo di Andreotti e me l'ha trovato in un istante molto interessante non credo che sia un tema di grande fascina per tutti però va così i plug-in sono vari sono tutti in questa quota a pagamento non è pubblicità nel senso che è importante secondo me sapere che esistono e poi ciascuno poi può pensare di fare delle sperimentazioni sui suoi temi poi vi faccio vedere un paio di cose che sono interessanti di questa di questa versione a pagamento ci sono degli altri temi che sono la produzione di immagini ad esempio è sì Bing siamo arrivati molto avanti e fra poco fra poco mi interrompo ma sono la produzione di immagini i sistemi sono in grado di generare delle cose straordinarie ad esempio questa rana è una rana che non esiste ho chiesto di fare una rana marmorizzata a meggiorni e ha creato una rana bellissima ecco siamo all'analisi di file di file l'analisi di file forse una delle risorse più interessanti per ora la tecnologia è ancora molto fluida pensate però la possibilità di avere dei riassunti attendibili ad esempio di documentazione sanitaria o documentazione legale o documentazione di altro genere ma queste sono delle cose estremamente importanti soprattutto per chi è costretto quotidianamente ad analizzare grandi volumi di dati e questo occupa moltissimo tempo questi sistemi sono non ancora perfetti ma si percepisce che ci sono degli sviluppi molto interessanti ad esempio suggerisco di esplorare cloud intelligenza artificiale perché sui pdf è uno di quelli con le migliori caratteristiche l'altro è gpt nella versione a pagamento ci sono servizi a pagamento negli ultimi mesi le tariffe sono scese enormemente ed è possibile questa è un'altra caratteristica molto importante far valutare testi scritti da sé propri o nell'ambito di valutazioni se ad esempio dobbiamo fare una revisione critica e dare il testo in prima battuta a questi sistemi fare delle revisioni critiche molto interessanti non si sostituisce a un editor professionale ma senz'altro sono in grado di fare analisi sulla lingua sulla forma stilistica consigli di miglioramento ecco siamo un po' all'ultima fase delle cose che vi volevo raccontare perché naturalmente l'uso di chat gpt in ambito scientifico è entrato ormai in un diciamo tumulto sono comparsi i primi lavori verso aprile di quest'anno in cui figurava come autore chat gpt con enormi problemi immediatamente perché chat gpt se è in grado di produrre un paper o parte di un paper come se fosse un autore non ha assolutamente la capacità di rispondere dal punto di vista etico legale di altro genere e questo è un questo dell'autorship è uno dei temi aperti sulla riflessione tematica dell'intelligenza artificiale questo ve lo faccio vedere perché è una caratteristica della versione a pagamento molto interessante io sono stato sempre un sommaro di statistica straordinaria ma se voi avete un dataset cioè una tabella Excel e la date in pasto a chat gpt chat gpt vi fa l'analisi delle correlazioni per cui ad esempio ho messo il dataset dei passaggeri al Titanic che esiste un set statistico famosissimo e gli ho detto c'è una correlazione fra classe e il biglietto sopravvivenza al naufragio e lui l'ha analizzata e dice che c'è una correlazione significativa fra l'essere in prima classe e sopravvivere al Titanic questa metafora non la commento ma credo che sono anche un po' le vicende del essere curato bene o non essere curato bene insomma credo che conoscere questi sistemi di analisi sia molto interessante perché potremmo guardare molte cose nel nostro mondo con delle conoscenze statistiche molto più alla portata senza dover ricorrere necessariamente a sistemi complessi siamo riusciti a pubblicare qualche cosetta e qui siamo alla fase finale un po' dei commenti e naturalmente questi sistemi che io vi ho così un po' raccontato non è una vera lezione figuriamoci su come si usano però se vi incuriosite iniziate a usarli poi capite che ci sono delle cose molto interessanti ad esempio in ambito didattico alcune università hanno scelto la via del divieto guai usare l'intelligenza artificiale e altre invece hanno detto ad esempio i sistemi di intelligenza artificiale sono in grado di risolvere problemi e dare spiegazioni sul processo e questo è interessantissimo c'è una forma di autoformazione e quindi di spostare la didattica su un livello molto più vicino a quello dello studente poi naturalmente si può rispondere anche a le domande multiple battute finali il tema dell'intelligenza artificiale è per vari motivi da conoscere io credo perché è irto di aspetti complessi problematici che non sono quelli dell'utilizzatore che si fa fare il tema dalla macchina senza usare il suo di cervello ma ad esempio la possibilità di creazione di notizie false con un'operazione vera e propria di intossicazione e addirittura di ricreazione della realtà quindi possiamo risvegliare i Beatles ma addirittura possiamo costruire gli scenari verosimili pare per ora che il sistema per riconoscere le immagini dell'intelligenza artificiale sia guardare le mani perché le mani dell'intelligenza artificiale non sono fatte in modo verosimile spesso hanno sei dita ma fra poco il sistema sarà perfetto quindi sarà indistinguibile quindi parliamo di rischi da parte di rischi sociali generali dall'altra i rischi vi ho detto dell'invenzione quindi che il sistema di sana pianta inventi citazioni bibliografiche Cesare prima qualche giorno fa mi parlava di ricerche fatte con CodgpT ebbene quando si fanno fare delle ricerche bibliografiche bisogna poi andare a riscontrare sul motore di ricerca che le citazioni siano vere perché spessissimo è deludente il sistema è verosimile ma non vero si è inventato tutto quindi la verifica le fonti e questo è un passaggio della cultura che non perdiamo anche con questi sistemi è che la verifica le fonti rimane una metodologia fondamentale e quindi sì i sistemi potranno essere usati saranno usati di più dai nostri studenti ma quello che dobbiamo insegnare è l'utilizzo del senso critico perché questi sistemi non governino ma diventino degli aiutanti come i computer sono diventati dei sostituti della macchina a scrivere ultime note l'aspetto dell'autorship l'abbiamo detto la macchina non è una persona quindi non risponde ma di chi sono i diritti delle invenzioni di queste strutture artificiali e non è chiarissimo c'è un problema enorme di copyright c'è un problema enorme di privacy tuttora se noi diamo in pasto un pdf di documentazione sanitaria di trascritti di intercettazioni di atti giudiziari e non abbiamo nessuna garanzia che queste cose non vanno ad alimentare un pool in cui poi le norme di privacy e di servite quindi è delicatissimo usiamoli per le ricette della nonna ma non per materiale sensibile fino a quando non ci sarà chiarito quali sono i limiti di queste tecnologie altro aspetto che preoccupa moltissimo è su quali set di dati sono programmate queste intelligenze artificiali perché potremmo farle studiare sul Vangelo o su Mein Kampf a seconda dei nostri gusti e le risposte saranno implacabili e lucidissime ma fortemente orientate dalle fonti che sono state usate per addestrarle e questo è un tema che preoccupa moltissimo si sono mossi molti persino il Vaticano ha ospitato un convegno l'anno scorso sull'intelligenza artificiale quando se ne parlava ancora molto poco ma del resto dei fendenti degli studi fra informatica e intelligenza sono anche molto remoti e questo è stata una cosa molto curiosa ultimissime cose un po' di frontiera ma che sembrano fantascientifiche ma in realtà in Cina sono ormai realtà quotidiana sono l'uso dell'intelligenza artificiale per l'assegnazione dei crediti sociali per cui se commetti un'infrazione ti decurtano i punti dal passaporto hai delle limitazioni nel chiedere diritti in esercitare diritti e questo è un sistema che vale in Cina ma già tuttora abbiamo visto il collega a cui è stato ristretto la possibilità di postare per quelle foto che sembravano trasgredire delle norme in realtà il problema del sistema è che era automatizzato basato sull'intelligenza artificiale che poi però si sbaglia e confonde la bambola con la cosa vera quindi affidare procedure da cui dipende la vita o la qualità di vita delle persone nel sistemi automatizzati è estremamente pericoloso e a questo si coniuga un'ideologia e può diventare un meccanismo pericolosissimo credo di avervi detto un po' il condensato le cose che penso di aver capito su questo sistema come dire la speranza qual è se fossimo ad una cena e adesso saremo al dolce e potremo parlare di che cosa ce ne facciamo di tutte queste cose a me piacerebbe proseguire un po' lo studio la sperimentazione di questi sistemi ma anche poter un po' diciamo far vedere quali sono le possibilità anche di impatto sulla vita concreta e quotidiana di questi sistemi e credo che è un po' un inizio questa sera per poterne parlare in altri modi e in futuro bene io vi ringrazio molto aprirei a me piacerebbe a me piacerebbe a me piacerebbe a me piacerebbe grazie a tutti